Non mi vedrete arrivare? Cominciamo subito! Ora ti mostro un paio di cose! Le altre macchine da corsa! Fate lì sotto, io sono pronto! Sono così felice! Meraviglioso! Sono così felice! Vai! Guarda com'è vero! Meraviglioso! Suo! Suo! Ciò, mettasete! Ok! Posso vincere qualunque gara così! Sono così felice! Come sono le altre macchine da corsa? Fatevi sotto, io sono pronto! No! Ci vediamo! Guarda com'è vero! Sostrugandovi! 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 Ahahahah! Mhahahah! Ahahahah! Ciao ciao! Sono mai andato così veloce! Ciò! Ciò che mi chiami guidare? Sostrugandovi! Sostrugandovi! Ok! Ci vediamo! Torna qui! A te mai! No, 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 no! Wow! Meraviglioso! Ciao, ciao! Sono così felice! E là! Ci si rivede? Ne dobbiamo liquidare? Osserva Guido e impara! Meraviglioso! Ora festeggiamo! Sono così felice! Torna qui! Su! Spercati in questo! Farlo! Mai! Meraviglioso! Ciao! Non sono mai andato così veloce! Posso vincere qualunque gara così! Non c'è anche macchine da corsa! Fatevi sotto! Io sono pronto! Molto! No! 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 Eh no!